Allora detto questo, se tu accetti da un tanghero come Alfano, che è un traditore, ma a parte il tradimento da dove nasce, accetti di avere la compagine di governo prefabbricata, eh no, non puoi, devi dire tu i ministri, non che dicono siamo qua la Lorenzin, Lupi e quell'altro pollo che c'era, più quell'altra lì che è stata cacciata via. Ma che roba è? Ma può essere ricattato in questo modo un premier? Deve dire io scelgo i ministri, ne parlo con il Presidente della Repubblica e non tu, sporgo di l'ordura. Ma che roba è? Alfano deve dimettersi, non quest'altro qui, questo nane rotto di lupi ragazzi simpatici, ma non sono degni di essere uomini, non sono degni, non si fanno i governi con i ricatti, questo è un ricordo, ma qualcuno può legare di quello detto, voglio la compagine con gli stessi posti. Ti do tre ministri che sono troppi, ma li metto dove voglio io, non all'infrastruttura, alla sanità, questo è un peccato originale da cui cadrà anche Renzi, sicuramente Alfano, non si accetta il ricordo. Un'accusa molto forte a Renzi. No, molto forte, se non è così, l'hanno visto tutti, adesso c'hai i lupi, lupi sarà anche un bravo ragazzo, non me ne frega niente. E naturalmente poi, appunto, lui considera che tutta l'avventura di NCD nasce col peccato originale. No, l'accettazione di Renzi è super parte, ma il concetto è questo, io voglio avere tre ministri, te li do, ma li scelgo io, e allora metto lupi alle pari opportunità, che è perfetto. La Lorenzina, l'infrastruttura, non li scelgo io, non li mettono dove erano prima, non è tollerabile. Lupi alle pari opportunità, no, io come atea, scusa, non lo dico bene, ma non lo dico bene, ma non lo dico bene, ma non lo dico bene. Ma non lo dico bene, 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 ma non lo dico bene. Il ministro li sceglie, tu li nomina, il napolitano, li sceglie il presidente del consiglio, non si fa scegliere, sono lì, sono lupi, torno a casa mia, datemi la mia poltroncina, ma che cazzo è? Agli interni al fanno, mai al fanno agli interni, al cesso al fanno. Va bene, basta, vi prego, ma... Signori, un minuto, vogliono parlare di Albertini perché ha parlato del regolo. Ha scelto il mio comune, ha sceltato il suo segretario. Perché non scioglie Milano?